Sul web ti vediamo vestito di bianco, vediamo che ti fa il Twitter, Fettel, che ti fa i complimenti per il prossimo anno. Che dici di tutte queste notizie che escono in giro? Beh, da un po' di messi, no? Ci sono tanti rumors. Ogni settimana mi mettono una squadra diversa, ma come ho detto sempre in queste gare, per rispetto alla Ferrari, per rispetto a tutti che siamo qui, più di 70 persone che siamo qui a Sao Paolo per difendere la Ferrari in pista la domenica contro i nostri opponenti. Dobbiamo fare tutta la concentrazione qui. Il mio futuro cosa farò? Come dico, molto a poca priorità in questo momento quando c'è la Ferrari in mezzo a lottare.